Approfondiremo la tematica di una didattica che va a lavorare su diversi canali di apprendimento del bambino o dei bambini che segui l'interno della tua classe, quindi una didattica incentrata su un lavoro che stimoli l'aspetto visivo, l'aspetto auditivo e l'aspetto cinestetico. Multicanale perché lavorando su un contenuto che va a stimolare contemporaneamente sia l'aspetto visivo, quello auditivo e quello cinestetico, ci assicuriamo che tutta la classe abbia dei livelli di apprendimento maggiori e che di conseguenza si riesca a seguire in maniera più agevole all'interno delle lezioni e all'interno del programma. Grazie